Recensione scarpe 510 ecco qui come potete vedere sono appena arrivate questo è il pacco ed ecco qui la scatola delle 510 ora procediamo all'apertura eccole qui sono le 510 ho preso la misura 44 e 2 terzi sono il modello Freerider la famosa suola in stealth che dicono sia eccezionale Grazie ed eccole qui in tutto il loro flendore ovviamente come potete vedere sono fatte dalla adidas perciò sinonimo di garanzia e qualità di materiali ecco qui il numero che ho preso spero che riuscite a vedere come vi dicevo vi consiglio di prendere circa mezzo numero se non anche un numero in più insomma io porto il 44 e il 44 2 terzi mi va perfetto questa è la famosa suola stealth che da grandi capacità di tenuta sui pedali ovviamente li dovete usare sui pedali flat della mountain bike perché sono l'ideale per questo tipo di scarpe alla prossima e ciao a tutti grazie 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 grazie